Più agenti sulle strade grazie ad una maggiore efficienza nella gestione amministrativa e l'obiettivo di creare un'unica centrale operativa per il sistema di videosorveglianza con 130 occhi elettronici. Le polizie municipali di dieci comuni dell'Unione Pedemontana-Parmense e dell'Unione Montana-Pennino-Parmest hanno deciso di unire le forze attraverso una convenzione sottoscritta dai rispettivi amministratori. Un accordo che prevede una organizzazione in piena sintonia con il piano strategico varato dalla Regione, con cui si promuovono e incentivano sinergie tra territori appartenenti, come in questo caso allo stesso distretto sanitario. Nasce così un'importante collaborazione tra le polizie municipali di dieci comuni che rientrano nel distretto sud-est con un numero complessivo di 34 agenti, di cui l'ente capofila sarà l'Unione Pedemontana-Parmense, alla quale spetterà controllare periodicamente le fasi di integrazione e istituire un sistema di monitoraggio delle realtà svolte che dovranno essere verificate ogni sei mesi. I comuni coinvolti sono Collecchio, Fellino, Langhirano, Lesignano, Montechiarugolo, Neviano, Palanzano, Sala Baganza, Tizzano e Traversetelo. 70.203 gli abitanti del comprensorio che si stende su 426 km2.